PAC, cimitero di Montparnasse, Parigi. Alla fine abbiamo trovato la tomba di Jean-Claude Woleskine. Il simbolo che gli dobbiamo. Che ha disegnato per noi. Fai vedere la maglietta. Fai vedere la maglietta. Apri la. Che non è Woleskine, in realtà è Reiser. Prendi un sasso e mettilo. Eccolo, eccolo. Eccolo. Peccato venire a Parigi e non incontrarsi. Come facevamo prima. PAC! Grazie. Grazie.